Signore e signori, buonasera. È stato abbastanza lungo venire qui, in Franciacorda, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo felettissimi di essere qui con voi stasera. Il nostro gruppo è nato cinque anni fa in occasione di un concerto qui in Piemonte. E ha subito avuto come scopo principale la beneficenza. In Giappone abbiamo organizzato diversi concerti a Fukushima, anche con un importante musicista italiano, invitando i bambini telebotati. E nei concerti qui in Italia abbiamo cantato anche, non solo per i telebotati giapponesi, ma anche per i telebotati di Emilia. Attraverso queste attività ci siamo resi conto della bellezza di essere musicisti, perché il nostro amore per la musica può unire la gente e far nascere un piccolo aiuto per chi ha bisogno. Questa sera, con la collaborazione di tantissime organizzazioni locali, mandiamo il nostro cuore ai bambini del ospitale Mellino-Mellini, come avremmo potuto immaginare cinque anni fa. Devo dire che proprio grazie a chi come voi si impegna per il prossimo nostro gruppo è cresciuto sia musicalmente che umanamente. Per questo noi tutti dobbiamo veramente ringraziare chi ha lavorato per questa serata. Grazie ancora per essere venuti e buona serata.